Beh, secondo come si interpreta la battuta che Storace ha fatto, questo potrebbe benissimo essere un governo di travaglio, dipende da che cosa si intende, se per travaglio si intende un nome proprio o si intende un aggettivo, se si intende un aggettivo è davvero un governo di travaglio, il governo di destra, se invece si intende il nome proprio non è certo il governo di travaglio perché se, e neanche lontanamente lo potrebbe essere perché basterebbe che lo fosse un po' e sarebbe molto meglio di quello che è, invece è un governo di travaglio purtroppo nel senso dell'aggettivo e ovviamente Storace è molto bravo, è un animale da video, è abile a calcare, è avvezzo a calcare le telecamere, è abile, è sagace, pronto nella battuta, è anche intelligente e efficace direi, ha il senso proprio della battuta, però nonostante questo, nonostante questa indubbia capacità non riesce comunque a far quadrare il cerchio, nonostante questo non può dimostrare che questo travaglio di governo non sia davvero un governo di travaglio.